è parte la nostra avventura su questo ponte sospeso quando mia mamma vedrà il video avrà paura mamma traballa ma non ti preoccupare se riuscirai a vedere questo video vorrà dire che sarò sano e salvo ecco io sono al massimo 5 per volta non ti puoi manco girare perché aspettavolare oddio di camminare sulle uova cosa perché è una parola mi sento come quello lì famoso cinese che la gente mi guarda male di fronte e chi ce l'ha da sto coglione invece di fare prezzo fai video guarda quella come ride ce la farò ce la farò se l'abbiamo quasi fatta chi è che fa straballare la ripresa scenografica ultima per papà guarda che bella eccola mi stavate perdendo che si ridono facciamoli ridere un minuto 20 secondi abbiamo fatta siamo vivi